Ci stiamo muovendo con una ordinanza che è il frutto anche di un tavolo ragionato e compendiando gli interessi della cittadinanza, la gueta, il riposo, la tutela della salute pubblica perché la via Consolare Pompea è una strada ad altissima incidentalità, ha una media di 100 incidenti all'anno, media che anche per il 2022 si conferma, quindi c'è da compendiare queste esigenze con quelle dell'imprenditoria che vuole fare lo spettacolo e il divertimento. Però lo spettacolo e il divertimento hanno delle regole, ci stiamo limitando a ribadire quelle che sono la disciplina nazionale, cioè i locali che hanno licenza di pubblico spettacolo possono fare pubblico spettacolo fino alle 3 di notte, i locali che non hanno la licenza di pubblico spettacolo possono fare intrattenimento non danzante fino a 1 di notte, tutto qui. La musica da sottofondo è sempre consentita, non ci sono limitazioni che si voglia fare di pomeriggio o di sera, non incontreranno mai da parte nostra una contestazione. C'è un intervento del consigliere Carbone che fa riferimento alla musica? Ecco appunto, probabilmente commentare un provvedimento prima ancora che il provvedimento venga emesso induce poi a esporsi su argomenti che non sono ancora stati chiariti, quindi la voglio pensare così. E quindi al consigliere Carbone e anche avvocato dico che appunto la musica di sottofondo è sempre consentita nel pomeriggio come nella sera, l'intrattenimento, quindi l'evento organizzato specificatamente in quel lido, in quel locale, inizierà alle 21 ma come è sempre stato, non ci sono da questo punto di vista diversità e anche da un senso pratico e per un motivo economico, un locale la serata l'ha iniziato prima delle 21. Come Polizia Municipale state immaginando un potenziamento dei controlli, sappiamo anche le difficoltà del corpo ma c'è la necessità di avere maggiori controlli per strada? Sì, stiamo immaginando un potenziamento del controllo e proprio per questo stiamo attuando una serie di misure per incentivare il trasporto pubblico locale perché altrimenti quando la strada è tutta congestionata in quel modo neanche il controllo è possibile perché neanche le pattuglie riescono a intervenire. Quindi è un insieme di misure volte a disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, incentivare l'utilizzo del TPL favorendolo anche dal punto di vista della bigliettazione e poi una strategia coordinata con le associazioni di categoria che erano presenti al tavolo e con la Fibba per elevare anche il livello dell'offerta e soprattutto garantire a tutti i cittadini la piena vivibilità della riviera.